Partiamo con una citazione di Plinio, ma non è una concessione all'erudizione, ma si capirà nel corso dell'intervento anche l'esigenza di trovare linguaggi e suggestioni che ci consentano di parlare con l'ambientalismo, che non ha la nostra stessa cultura e spesso non ha neanche i nostri stessi obiettivi. Secondo Plinio, le montagne la natura le aveva fatte per sé come una sorta di scheletro che doveva consolidare le viscere della terra e nel contempo frenare l'impeto dei fiumi e frangere i flutti marini, nonché stabilizzare gli elementi più turbolenti con l'aiuto della loro solidissima materia. Noi invece tagliamo a pezzi e trasciniamo via, senza nessun altro scopo che ai nostri piaceri, montagne che un tempo fu oggetto di meraviglia anche solo valicare. E questo lavoro, o meglio queste sofferenze, per quale utilità o per quale piacere gli uomini se le sobbarcano, se non pestare su pavimenti di pietre vario pinte, come se questo piacere non lo togliesse il buio della notte che occupa la metà della vita di ognuno. Nel corso di diversi incontri e convegni organizzati da associazioni ambientaliste sul tema delle cave di marmo, questo richiamo che non vuole essere solo un tributo ad un grande naturalista dell'epoca classica che però già duemila anni fa, per gli strumenti che aveva tutto sommato, una serie di questioni le aveva intraviste, ma anche offrire un augurio di cautottimismo perché attraverso questa suggestione letteraria si è cercato e spesso è riuscito, di superare diffidenze steccati che la migliore esposizione programmatica non avrebbe consentito. Quelle frasi stanno a testimoniare che da sempre ci sono persone che sognano che il valore d'uso dei beni naturali e delle produzioni umane debba avere prevalenza sul piacere effimero e sul valore di scambio. Si tratta di partire da una suggestione per costruire un terreno di non semplice dialogo, tra due approcci alla trasformazione sociale storicamente distanti tra loro, quello ambientalista e quello del marxismo rivoluzionario. L'ecosocialismo potrebbe rappresentare il trade union. Sulle Alpi Apuane, come generalmente sulle montagne di tutto il mondo, le proprietà collettive delle antiche comunità hanno resistito fino alle soglie della modernità e in diverse realtà fino ai nostri giorni hanno resistito prima allo spossessamento e poi all'espropriazione da parte della proprietà privata. Nel caso delle Apuane questo spossessamento si è determinato, partendo da Carrara, dal XVIII secolo con la violenza propria che l'incipiente capitalismo usava sugli uomini e sulla natura nelle terre di cava e di miniera, ma non solo in queste terre. Questa violenza che ha soffocato con particolare evidenza Carrara la precedente cultura rurale, quasi non lasciandone traccia e determinando una sorta di sradicamento culturale della popolazione anche attraverso la rimozione della memoria della storia precedente, non è riuscita però a cancellare la memoria dell'antico diritto collettivo che, come un filo rosso, attraversa oltre due secoli. Le proteste dell'antiche collettività che si chiamavano vicinanze nel settecento, l'arrivo dei francesi di Napoleone Bonaparte, i voti risorgimentali, il grande moto insurrezionale anarcho-socialista del 1894, il sindacalismo anarchico, la resistenza e infine il paziente di lavoro di alcuni come noi, hanno impedito che la memoria dell'antica proprietà collettiva andasse perduta e periodicamente azioni più o meno decise e coerenti di rivendica si sono manifestate durante un lungo periodo storico che dall'epoca moderna arriva alla contemporaneità. Lo stesso fascismo, nella sua versione più populista, quella di Renato Ricci, ha dovuto fare i conti con questa memoria, riuscendo però ad utilizzarne le pulsioni plebee e piccoloborghesi per i suoi scopi politici e per quelli personali dei suoi capi. Ora per costruire un movimento e un programma di lotta per la riappropriazione pubblica della principale risorsa delle apuane, che è il marmo, bisogna partire dal tenere di conto... No, è impossibile la traduzione in un'altra lingua, quella velocità con cui le... Cercavo di stare nei tempi, la rallenterò. No, 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 è solo perché non si sappia che non può essere tradotta quella velocità lì, tutto lì. Se riesce a andare leggermente più breve... Provo ad andare un po' più piano. Per costruire un movimento e un programma di lotta per la riappropriazione pubblica della principale risorsa delle apuane, bisogna partire dal tenere di conto dell'impatto con la natura, con l'ambiente e con le collettività coinvolte e dal misurarsi con questioni che, se nella prospettiva necessitano l'abolizione del sistema capitalistico, nell'immediato impongono l'individuazione di obiettivi intermedi, che affrontino l'emergenza e lavorino da subito per un'alternativa di società. In questo senso la pubblicizzazione della risorsa marmo non può essere disgiunta da un piano di sviluppo ecologicamente compatibile e democraticamente determinato. In questo senso dovrebbe essere orientato il potere regolamentare che leggi speciali attualmente vigenti già conferiscono ai comuni di Masse di Carrara. Per questo noi rivendichiamo un piano per l'ambiente, il marmo e la montagna con l'attivazione di un processo partecipativo e un controllo dei lavoratori e dei cittadini. Un intervento pubblico massiccio dei comuni e della regione, orientato socialmente e gestito attraverso un'azienda pubblica, può costituire una risposta possibile alla crisi e attraverso una razionalizzazione delle scavazioni può consentire di ridurre la quantità di materiale scavato, di dismettere progressivamente la lavorazione nelle aree con maggior impatto ambientale e di lavorare e trasformare sul territorio il materiale scavato creando occupazione, cultura e differenti opportunità di lavoro e attività. Questo processo non può che avvenire se saremo in grado di rivendicarlo e quindi di imporlo nel pieno rispetto di compatibilità ecologica e rigidissime a partire dal controllo e dal progressivo contenimento del rischio idraulico, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e alla tutela dell'ambiente e dei diversi paesaggi, non del paesaggio in astratto, esistenti sulle Apuane. Questa fase però vede un'azione legislativa della regione toscana che sta liquidando gli usi dei mani civici non ancora formalmente riconosciuti, conferma che il parco delle Apuane non è un parco naturale ma un parco delle attività estrative, fa slittare di altri vent'anni qualsiasi razionalizzazione nelle cave di marmo di masse di Carrara e consente la produzione della rendita parassitaria esistente. Si tratta di un'offensiva che passa sull'ambiente e sulle proprietà collettive per conto della rendita e del capitale, cui si oppone una variegata composizione di forze che pur trovando significativi momenti di parziale unità d'azione, resta divisa tra visioni e prospettive, tra loro molto distanti. Vale la pena di accennarvi almeno sommariamente. Esiste un forte movimento di opinione, diversamente articolato, la sigla più nota è salviamole di Apuane, con una caratterizzazione fortemente fondamentalista in materia di escavazione. Secondo questo movimento tutte le cave o quasi andrebbero chiuse quanto prima, per favorire un modello economico fondato principalmente sull'agricoltura e l'allevamento naturale, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e quindi un'attività turistica sostenibile. Questo movimento molto trasversale è fortemente impegnato in campagne di denuncia e nel dar vita ad eventi di buon impatto mediatico. Le associazioni ambientaliste tradizionali, soprattutto Lega Ambiente Italia Nostra di Carrara, fino ad oggi sostenute dai rispettivi livelli regionali, cui va giunta l'Arci e anche altre organizzazioni locali, conducono con coerenza una battaglia contro gli effetti più impattanti dell'industria marmifera, restando non senza criticità però nell'ambito delle finalità di quelle associazioni e dell'appartenenza alle stesse. Le uniche due forze politiche realmente impegnate su questo fronte e interne al movimento sono il Movimento 5 Stelle e Sinistra Anticapitalista, come generalmente riconosciuto da tutte le associazioni e dagli attivisti di questa variegata opposizione. Va rilevato che alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle partecipano come attivisti alle diverse campagne di movimento, mentre come organizzazione 5 Stelle mantengono una loro spiccata identità, forti dei loro numeri e del loro peso istituzionale. A Carrara va segnalata anche l'attività di una consigliera della lista Carrara Benecomune che è molto attiva nell'opposizione alle politiche del centro-sinistra ma sono collegati con l'IDV. Per quanto ci riguarda i nostri compagni sono stati storicamente impegnati sia sul fronte del marmo che su quello della tutela ambientale e la nostra organizzazione non trova difficoltà ad agire nei limiti del nostro peso e della nostra capacità sia come tale che attraverso l'impegno dei singoli compagni nel movimento. Abbiamo quindi cercato di convergere quando possibile un po' con tutte le altre componenti anche se un rapporto ormai abbastanza organico si è realizzato soprattutto con Lega Ambiente, Italia Nostra e Arci. Il tratto comune di questo settore di movimento è dato dal comune impegno nelle lotte per la piena riaffermazione della proprietà pubblica, per la riduzione delle aree di escavazione e della quantità dei materiali escavati e per la valorizzazione della risorsa attraverso la lavorazione in loco. Consapevoli del fatto che la transizione dall'attuale modello produttivo fondato sulla rendita e sulla rapina ad un corretto utilizzo della risorsa non può che passare attraverso un non indolore processo di riconversione ecologica dell'economia locale. Naturalmente l'assenza di un soggetto politico e di un programma di obiettivi intermedi all'altezza della gravità della crisi fa sì che queste convergenze non riescano a dare ad avere una prospettiva che va dal di là del carattere locale e settoriale. Se nonostante gli sforzi di qualche esponente del PRC e di SEL che cercano di amministrare un po' di consenso elettorale la credibilità di queste organizzazioni nell'ambito del movimento è praticamente ai minimi termini per la loro subalternità al PD. A destra invece Fratelli d'Italia attraverso i suoi rappresentanti istituzionali si sta costruendo una certa credibilità non solo negli ambienti più tradizionalmente vicini alla destra dell'ambientalismo ma anche tra i meno avveduti politicamente e questo grazie proprio alle ambiguità e ai nodi non risolti nell'ambito del variegato movimento ambientalista delle apuane. Il nodo dolente tuttavia resta quello dei lavoratori del marmo che dovrebbero essere gli attori del processo di trasformazione e invece nel settore dell'escavazione restano ingabbiati in una sorta di complicità addirittura con il padronato. Mentre nel settore della trasformazione dove peraltro sarebbero più evidenti i vantaggi di una riconversione ecologica della filiera produttiva restano sostanzialmente inerti. Eppure spesso questi stessi lavoratori esprimono in quanto cittadini di senso e rabbia nei confronti degli effetti più devastanti ed iniqui dello sfruttamento intensivo dei giacimenti marmiferi. Le responsabilità dei sindacati confederali per questo stato di cose non trovano definizione adeguata perché andremo veramente al di là del buon gusto. Il coinvolgimento di settori di lavoratori e del sindacalismo conflittuale rappresenta un obiettivo politico da conseguire nei prossimi mesi. Questo è un obiettivo che ci stiamo dando concretamente anche attraverso una campagna di agitazione che colleghi la lotta ecologista e per la riappropriazione del bene comune alla lotta per il controllo delle entrate comunali derivanti dal marmo che devono e possono aumentare ma soprattutto devono essere destinate ad interventi sociali e di prevenzione. Su questo terreno andranno ricercate con pazienza intese intersindacali e intercategoriali perché è solo dalla lotta e dalla discesa in campo di una parte almeno dei lavoratori che l'ecosocialismo potrà trarre energia e potranno i suoi argomenti essere più convincenti per il superamento all'interno del movimento ambientalista delle illusioni del civismo e delle suggestioni della decrescita felice. Si tratta di orientare o cercare di orientare un processo per la nascita di una nuova soggettività che potrebbe contrastare l'offensiva del capitale e della rendita contro il lavoro a carrare sulle apuane. Questa offensiva del capitale è contro il lavoro ma è anche contro la collettività locale nel suo complesso e contro la natura. Se non riusciremo a far scendere in campo almeno una parte, un'avanguardia dei lavoratori noi siamo condannati a restare una corrente del dissenso che non riesce a superare la soglia della denuncia e della testimonianza peraltro come la maggior parte, anzi direi nel nostro caso tutte le organizzazioni e gruppi ambientalisti. Si tratta di una sfida importante, noi cerchiamo di lavorarci, a volte ci assumiamo anche qualche responsabilità al di sopra, sicuramente al di sopra delle nostre forze organizzative ma si tratta sicuramente dell'unico terreno possibile. Se qualcuno avesse voglia di approfondire un po' sia sul sito nazionale che sul blog anticapitalista Massa Carrara c'è altro materiale che ho dovuto sintetizzare per forza di cose.